Il boss di Cosa Nostra Gaetano Fidanzati, arrestato sabato scorso a Milano dalla squadra mobile, aveva un nascondiglio a Parre, in una villa di Via Libertà. La notizia è filtrata ieri sera dalle indagini ancora in corso per ricostruire i suoi spostamenti. Lunedì sera intorno alle 20 a Parre c'è stato un blitz degli agenti dei reparti speciali che hanno perquisito la villa al Civico 6 di Via Libertà. Si sono fermati a lungo nella casa e al termine avrebbero portato via un grosso scatolone. Qualcuno si era anche avvicinato ai carabinieri per chiedere cosa stesse accadendo. Era stato risposto che si trattava di un normale accertamento. Era circolata anche la notizia che si trattasse di un'operazione antidroga. Gaetano Fidanzati, 74 anni, storico boss del quartiere Arenella di Palermo, avrebbe trascorso a Parre almeno una parte della sua latitanza. Era tornato in libertà nel 2006 dopo aver scontato tutte le pene ed era rientrato a Palermo, ma di lui si erano perse le tracce dall'ottobre del 2008. Due mesi dopo era stato emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di custodia cautelare. Fidanzati era sicuramente a Parre venerdì sera, ha infatti cenato presso il ristorante La Pesa di Ponte Selva. I titolari lo hanno riconosciuto vedendolo il giorno dopo in tv.